A Marina di Città Sant'Angelo il pastore tedesco Daphne della Guardia di Finanza ha scovato la droga trasportata da un corriere albanese. Le immagini che vi mostriamo sono proprio quelle della Guardia di Finanza con gli uomini delle fiamme gialle che nei giorni scorsi vicino a un distributore di carburanti a Marina di Città Sant'Angelo stavano controllando una Ford Focus condotta da un albanese di 46 anni. Insospettiti dall'evidente stato di agitazione dell'uomo, i finanziari hanno deciso di approfondire il controllo con l'ausilio di un'unità cinofila e proprio il cane antidroga ha individuato la presenza di sostanza stupefacente sotto il vano cruscotto anteriore del lato passeggero all'interno del quale c'era un involucro di cellofan sottovuoto ricoperto di un palloncino in gomma contenente circa mezzo chilo di cocaina. Un confezionamento ad arti appositamente realizzato al fine di sfuggire al fiuto dei cani antidroga che però non è servito a ingannare il super addestrato pastore tedesco Daphne non nuovo protagonista di analoghi interventi. L'insospettabile corriere albanese, privo di precedenti specifici per traffico di sostanze stupefacenti è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato portato in caserma per ulteriori approfondimenti del caso. Le fiamme gialle di Pescara hanno proceduto al sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto oltre al mezzo chilo circa di cocaina. Il corriere è stato tratto in arresto per il reato di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e infine tradotto in carcere.